Buongiorno a tutti, io sono Jacopo Basagni di Rizzoli Education, presentiamo adesso il webinar che si chiama il patrimonio culturale come territorio di esperienza della cittadinanza attiva, relatrici sono la professoressa Laura Colombo che è docente di storia dell'arte buongiorno e ha ricoperto incarichi direttivi presso Anisa occupandosi in particolare di progetti di innovazione educativa insieme con le istituzioni museali, l'altra relatrice Nicoletta Unida, docente di storia dell'arte e autrice insieme a Laura Colombo, Dionisio Savarese del manuale di storia dell'arte nel 2021 Dialogo con l'opera e di vari altri manuali che hanno pubblicato con noi, sempre con un titolo opera. Il tema del webinar, la valorizzazione del patrimonio culturale che è intorno a noi non è solo un fatto di conoscenza, deve essere una competenza e in quanto competenza deve essere attiva. Lo studente partecipa con il docente all'attività di valorizzazione, quest'anno di DAD come sapete tutti ha chiarito che questo passaggio è assolutamente necessario, pena un distanziamento irreversibile fra contenuti docente e studenti. Per questo Laura e Nicoletta insieme alle altre due autrici nel manuale di quest'anno Dialogo con l'opera hanno cercato di rispondere a questa esigenza di unione attraverso il patrimonio culturale e la sua valorizzazione. Nel manuale e in questo webinar per parlare di queste cose molto meglio di me do la parola innanzitutto a Laura. Grazie e grazie a tutti per essere qua. Allora il nostro intervento sarà proprio incardinato su una proposta di apprendimento e naturalmente insegnamento incentrata sull'articolo 9 della nostra Costituzione, ossia l'articolo che ci impegna a valorizzare il nostro patrimonio culturale proprio ai fini della tutela come un'esperienza che si inserisce pienamente dentro ad una didattica attiva, ossia una didattica incentrata sullo studente, sulla consapevolezza da parte dello studente, del suo processo di apprendimento, ma anche come la partecipazione ad una bellissima esperienza di costruzione di sé, come protagonista, vero protagonista di questa tutela e valorizzazione del nostro patrimonio. Ecco, l'intervento è articolato in due tipi. Nella prima esporremo dei criteri di ordine generale, proprio all'interno di questa concezione dell'apprendimento come didattica laboratoriale, cosa purtroppo non così usuale nella nostra disciplina, la storia dell'arte, ma pensiamo appunto che un'esperienza dentro e fuori l'aula nel vivo del nostro patrimonio sia un modulo di lavoro che proprio può dare corpo e sostanza all'educazione civica, anche in un'ottica, soprattutto in un'ottica interdisciplinare, in quanto proprio il nostro patrimonio è una straordinaria risorsa proprio per andare oltre i nostri ambiti disciplinari. Nella seconda parte parleremo e illustreremo un caso di studio. Bene, allora possiamo subito partire. Allora, noi siamo partite da una domanda, questa. Come la conoscenza del passato può essere trasformata in mezzo per agire sul futuro, rendendo i nostri studenti protagonisti della valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Diciamo un compito sfidante per noi e per i nostri ragazzi. Abbiamo proprio evidenziato questo aspetto, diventare protagonisti da parte dei nostri ragazzi. Quindi sostenere come dire, rendere proprio corpo e sostanza nel loro percorso formativo, l'articolo 9 della nostra Carta Costituzionale. Quello che ci impegna appunto a tutelare il paesaggio, il patrimonio artistico, nell'ambito proprio dello sviluppo della nostra identità nazionale. Ecco, un altro punto di riferimento importantissimo è la Convenzione di Faro, ossia la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società del 27 ottobre del 2005. Convenzione ratificata nel nostro paese nell'ottobre del 2020, quindi con la legge 133 e che ci permette appunto di ulteriormente mettere a fuoco lo scopo dell'educazione al patrimonio culturale, ossia la costruzione di una società pacifica e democratica nei processi di sviluppo sostenibile, quindi questo è un aspetto sostanziale, nella promozione della diversità culturale. Ecco, questo è un nodo veramente importante. Sappiamo quanto sia fondamentale nella nostra didattica, nel nostro lavoro di educatori assumere un'ottica di inclusione. La pedagogia del patrimonio ci permette proprio nella concretezza dell'opera di evidenziare quelle che sono le diverse tradizioni culturali e nel costruire insieme a soggetti provenienti da diverse tradizioni un risultato comune, un risultato importante per la collettività che include tutti. Bene, la Convenzione di Faro ribadisce quello che ribadisce il nostro articolo 9, poi è attuato nel codice dei beni culturali del 2004. Il patrimonio culturale è l'eredità culturale intesa come insieme di risorse ereditate dal passato che identificano una comunità nei suoi valori, credenze, conoscenze, tradizioni. Quindi, senza la conoscenza del patrimonio culturale non c'è identità o meglio, consapevolezza della propria identità e nemmeno senso di appartenenza. E su questo senso di appartenenza si può veramente fondare una comunità pacifica e rispettosa. Ora, quello che noi vogliamo fortemente tutti, ma in particolare proprio nello specifico dell'educazione al patrimonio culturale è far sì che i nostri ragazzi acquisiscano la consapevolezza di essere parte di una comunità, in specifico una comunità di eredità, così come definita dalla Convenzione di Faro, ossia una comunità che valorizza il patrimonio culturale nel quadro di un'azione pubblica e lo permette alle generazioni future. Ecco, nel quadro di un'azione pubblica è per noi molto importante perché ci porta immediatamente al di fuori della scuola, cioè la scuola dentro alla società civile. Quindi quello che noi costruiamo, ecco il punto, la domanda iniziale ulteriormente articolata, è proprio questo. È un'esperienza che sia trasmessa, sia poi condivisa in un ambito oltre la scuola, nella società civile, in quella comunità appunto della quale i nostri ragazzi fanno parte. Allora, quindi fondamentale se ci deve essere appunto consapevolezza di appartenenza e anche l'orgoglio di costruire un risultato importante, dobbiamo pensare a più ambiti di apprendimento. L'ambito scolastico, con quello che può essere il suo prolungamento OM e la straordinaria possibilità di attingere alle risorse della rete, ovviamente filtrate dal docente. Certo si promuove una ricerca così random, senza guida, ma soprattutto il punto è questo, il territorio. Il territorio nelle sue stratificazioni storiche come luogo dove vi sono le testimonianze che costituiscono appunto l'identità della comunità di appartenenza. Quindi noi abbiamo pensato che sia fondamentale lavorare su un bene culturale nel territorio di prossimità. Ora, quello che ci è venuto in mente come un bene culturale esteso, presente capillarmente nel nostro territorio, anche nei luoghi più piccoli, paesi, è il memoriale, ossia museo-monumento che è dedicato alla memoria di un evento, un evento che ha segnato la storia di quella storia in generale e la storia proprio della comunità di riferimento, dove è posto. Un altro elemento esteso, diffuso, è il bene culturale che ha subito distruzioni o danneggiamenti dai venti bellici. Io sono di Milano e la mia città nell'agosto del 43 è stata completamente rasa al suolo. Si parla di Dresda, ma è abbastanza di Milano. Cento metri di Monte Stella, il monte che abbiamo in Milano, sono stati costruiti sui detriti, con i detriti, scusate, di questa tremenda distruzione. Il memoriale, che sia anche un semplice monumento, è un'opera pubblica. E quindi, come tale, coinvolge anche non solo la storia, ma anche la storia dell'arte, perché il significato è veicolato da una forma. E su questa, appunto, interviene la riflessione disciplinare. Possiamo andare avanti. Ecco, affinché il passato parli nel presente, soprattutto un monumento, un'opera dedicata ai caduti, è fondamentale assumere questa ottica, quella che è stata la base di questa bellissima creazione che ora vedremo, il Museo per la Memoria di Ustica, ossia della strage di Ustica. Queste sono le parole di Christian Boltanski, che è l'autore di questa bellissima installazione permanente che lui ha donato e che costituisce il memoriale di Ustica come un museo vivo, cioè un museo dove ancora la gente si incontra non solo per ricordare, ma per capire quella che a tutt'oggi è ancora una strage senza responsabili e per progettare anche il futuro. E voglio qui dire una cosa importante. Ogni anno il museo è il luogo di un evento molto significativo, un concorso di poesia, giovani artisti che poi hanno dato vita a una collana di libri illustrati, quindi sorta, chiamiamola, di poesia visuale. Questo per dire che se non si pratica quel luogo, non si fanno dei progetti per quel luogo, per quell'evento, questo evento viene dimenticato, è effettivamente morto nelle nostre coscienze. Allora, questo è il relitto dell'aereo abbattuto il 27 giugno del 1980 nei cieli di Ustica. Si parlò, come sapete, adesso non vado all'interno del discorso della cronaca, ma di incidente, di attentato. In realtà poi l'iter giudiziario ha curato che in quella notte c'era un vero e proprio teatro di guerra nei cieli di Ustica. Ma al di là, diciamo, di questo, è importantissimo leggere l'installazione in relazione proprio a chi entra nel memoriale, perché l'installazione è uno straordinario dispositivo di senso. che investe appunto l'evento, che cosa è veramente stato e quanto dolore è stato creato, ma nello stesso tempo è anche il fermo proposito di agire affinché questo non accada più. Allora, velocemente vediamo appunto l'installazione, le 81 luci, che corrispondono le 81 vittime che si accendono e si spengono al ritmo di un respiro. Andiamo avanti. Gli 81 specchi dietro i quali, specchi perché la gente che passa si riflette, e dietro i quali ci sono frasi sussurrate, le ultime forse pronunciate dai passeggeri, ma come dice l'artista, frasi di vita, non di morte. Queste sono le casse che ci riportano però con crudezza l'evento. Vorrei scorrere perché sto andando purtroppo, troppo lentamente. Andiamo avanti. Ecco, quindi un prodotto alla fine di questo percorso, di questa attività laboratoriale, un prodotto concreto e trasmissibile che della pratica disciplinare storica e storico-artistica assuma alcune abilità fondamentali, competenze, poiché dietro a queste azioni ovviamente ci sono i contenuti disciplinari e contenuti che vengono valorizzati nell'esperienza. Osservare e descrivere, ricercare testi, documenti e risorse, chiaramente con una preselezione del docente, sto parlando soprattutto delle risorse nella rete, quindi già una buona sitografia è un aspetto sostanziale. Raccogliere, analizzare informazioni e dati, confrontare testi, ma soprattutto i due ultimi punti, riorganizzare fatti e concetti in una sintesi e condividere i risultati con la modalità di un lavoro collaborativo. Se appunto, ecco, prima di parlare in sintesi del lavoro collaborativo nell'ultima slide, queste sono azioni che facciamo nel nostro quotidiano. Quindi, decostruire azioni complesse con compiti di lavoro che usino concetti e azioni calibrati sul discente, ridurre il numero di passaggi richiesti, fornire feedback in numero adeguato, ma in questo progetto devono essere strettamente sempre uniti. e soprattutto l'ultimo punto, fornire molti feedback in azioni progettate in modalità di lavoro collaborativo. Più feedback vengono dati al discente e più abbiamo appunto la possibilità che lui si renda sempre più consapevole del processo per arrivare al risultato. Il lavoro collaborativo mette in campo delle straordinarie abilità trasversali che sono proprio fondamentali nella crescita della persona. Quindi ascoltare le motivazioni e le argomentazioni altrui, spiegare le proprie motivazioni e argomentazioni, fare domande, riorganizzare idee e azioni sulla scorta dell'esempio altrui. Quindi le modalità del lavoro collaborativo sapete sono molte, dalla discussione allo scambio concreto di progetti, alla stesura di un planning di lavoro che arrivi al risultato e che deve essere anche frutto soprattutto io credo come input degli allievi, dato agli allievi. Va bene, questa è diciamo un po' la sintesi. Nella manuale abbiamo proposto delle schede che non sono appunto dei format di lavoro ma che del format di lavoro illustrano due aspetti essenziali, cioè la relazione dell'opera col territorio e appunto la concezione proprio nello specifico del memoriale come museo vivo, cioè quindi l'attualizzazione del bene culturale come dispositivo di senso nel presente. Grazie e do la parola alla mia collega. Grazie. Allora, abbiamo pensato per questo incontro appunto di prendere un secondo caso, un secondo esempio dove fosse sempre rilevante questa tematica diciamo della memoria, un secondo esempio che abbiamo comunque tratto diciamo dal nostro manuale e di specificare nel caso specifico nel caso di questo esempio diciamo specificare proprio i passaggi di cui parlava precedentemente la collega, quindi di illustrare come potrebbero in questa situazione specifica e con questo tema specifico diciamo essere toccati uno ad uno i punti, i passaggi fondamentali diciamo di questo progetto, quello che si sviluppa comunque come un progetto sicuramente con una sua durata anche nel tempo. Quindi appunto l'idea è quella di prendere un esempio e di mostrare quindi come in qualsiasi lavoro di questo genere sicuramente in partenza ci sono degli input che devono essere organizzati dai docenti dopodiché è centrale comunque il lavoro sul campo dei ragazzi quindi un lavoro di osservazione come si diceva prima di raccolta e messa in relazione delle fonti con quanto si è osservato sul campo e poi soprattutto arrivare a produrre come diceva prima Laura una documentazione. Ecco il tema che abbiamo scelto è appunto un'altra delle tematiche proposte nel manuale come diceva la collega la tematica dei bombardamenti scusate ecco la tematica dei bombardamenti durante la seconda guerra mondiale abbiamo scelto questo perché è comunque a parte il fatto che è un tema che viene regolarmente affrontato il quinto anno anche ovviamente dai colleghi di storia quindi si presta anche un lavoro interdisciplinare e poi che riguarda fondamentalmente tutto il territorio italiano in misura magari maggiore minore con diverse conseguenze ma tutto il territorio italiano fondamentalmente è stato interessato da questo e la riflessione è peraltro che proponiamo su due aspetti da una parte proprio i bombardamenti in sé le distruzioni che sono state operate e come sono state anche vissute sulla pelle dalla popolazione dall'altra parte una seconda questione che ha molto a che fare comunque con il problema della memoria con il tema della memoria come si è operato dopo cioè che cosa è stato ricostruito cosa non è stato ricostruito e come quello che ci sembra interessante di una tematica di questo genere è che i nostri studenti sono portati sarebbero portati diciamo con un lavoro di questo tipo da una parte a rendersi conto che dei fatti storici che loro studiano magari appunto con l'insegnante di storia e che tante volte sembrano per loro appartenere a un tempo lontanissimo a un tempo è un luogo lontanissimo sono invece fatti molto più recenti diciamo e soprattutto che si sono svolti nel territorio in cui loro continuano a vivere e questi fatti lasciano ancora delle tracce sono ancora leggibili sono leggibili se si impara però a trovarle e a leggerle queste tracce e allo stesso tempo se si prova a fare proprio un lavoro di medesimazione quindi da un lato c'è l'evento storico e dall'altro c'è appunto il vissuto di chi l'ha subito e in quel vissuto i ragazzi si possono almeno in parte riconoscere infine ribadiamo appunto che è molto importante che questo poi dia luogo a un prodotto che loro possano comunicare come abbiamo come dire ipotizzato ecco proprio lo svolgimento di questo tipo di progetto una prima fase è quella indubbiamente dell'osservazione del bene culturale o dei beni culturali in senso ampio adesso chiarisco subito cosa intendiamo e del contesto un'osservazione nella quale peraltro appunto una fase tutte le fasi in tutte le fasi noi pensiamo che possa essere indubbiamente coinvolto il collega di storia ma forse anche altri colleghi su questo aspetto poi magari torniamo quello che è certo è che ognuno di noi deve per forza sempre valutare la situazione specifica del proprio istituto qual è il territorio in cui si opera quindi ci possono essere casi in cui magari anche vicinissimo insomma al proprio alla propria sede di lavoro ci sono magari dei interi tessuti storici tessuti edilizi storici che sono stati interessati dai bombardamenti potrebbero anche non essere in un'immediata prossimità ma si potrebbe anche decidere di lavorare ad esempio su qualche specifico monumento artistico che magari non si trova nella cittadina in cui è presente l'istituto lo dico perché io ad esempio lavoro in un istituto di provincia e se dovesse affrontare un tema di questo genere ad esempio lo svilupperei diciamo con i miei ragazzi sul capoluogo di provincia che è comunque vicino diciamo magari scegliendo dei monumenti artistici quindi ci deve essere una selezione a priori da parte dell'insegnante diciamo o degli insegnanti e anche un minimo di ricognizione sui materiali che poi sono effettivamente disponibili per i ragazzi perché non possiamo pensare a un lavoro di carattere universitario in cui lo studente da solo va a cercare qualche cosa magari sì però indubbiamente è importante che si fornisca ai ragazzi un minimo di bibliografia o di sitografia nel caso specifico è molto importante trovare del materiale iconografico interessante adesso spiegheremo anche il perché quindi gli insegnanti forniscono ai ragazzi che potrebbero essere divisi in gruppi poi scegliendo magari appunto un'area urbana un insieme di edifici insomma e quindi a ciascun gruppo sarebbe assegnato un punto anche un solo edificio ben preciso forniscono questo materiale bibliografico sitografico e i ragazzi devono acquisire dal materiale ciò che può essere interessante sia a livello di foto d'archivio che a livello magari di proprio descrizioni di quanto è accaduto il secondo passaggio importantissimo i ragazzi dovrebbero magari essendo prima guidati in classe ma io credo che potrebbero almeno in parte questo lavoro farlo anche da soli recarsi sul posto e riconoscere i luoghi che loro vedono nelle foto d'archivio soggetti che sono stati soggetti a distruzione riconoscerli nel presente e fotografarli di nuovo quindi pensare a una vera e propria campagna di riprese fotografiche adesso esemplifico immediatamente se necessario integrare questo materiale iconografico ad esempio può essere molto interessante ci sono delle foto aeree del passato delle città o di specifici monumenti subito dopo i bombardamenti allora è molto facile procurarsi oggi e giorni nostri immagini simili utilizzando le visioni da satellite piuttosto che addirittura street view e sul posto l'altra cosa importante sul campo diciamo fare attenzione a tutte le possibili tracce di quello che è accaduto faccio subito degli esempi alcuni anche molto banali e declatanti ma tanto per essere chiari è evidente che nel momento in cui ad esempio si prende in mano la celebre foto del refettorio di Santa Maria delle Grazie a Milano distrutto con in fondo ancora in piedi il muro con il cenacolo di Leonardo e lo si accosta a un'immagine attuale in qualche modo l'attenzione si sposta per una volta dal cenacolo diciamo a quello che succede qui nella parte nelle volte dell'edificio dove improvvisamente ci si accorge ecco di questa traccia molto evidente di quello che era accaduto una discontinuità negli affreschi che permette ancora oggi di risalire a ciò che era successo ed è qualcosa che magari i nostri ragazzi non avevano osservato quando hanno magari affrontato il cenacolo l'opera di Leonardo da un altro punto di vista un altro esempio scusatemi ma ok ecco non riuscivo a mandare avanti la slide ecco qua allora un altro caso ad esempio scusate no eccoci tanto per dire che cosa può come può essere anche educativo per i ragazzi può sviluppare proprio delle competenze nella fotografia di sinistra un'immagine vedete ancora un'immagine di Milano chiedere ai ragazzi ad esempio di orientarsi anche rispetto al territorio là in fondo si può far notare se non la notano loro la sagoma del Duomo riuscire a rintracciare qual è il punto specifico di corso Vittorio Emanuele nella foto che vedete a sinistra e riuscire a farne io adesso questa l'ho presa dal web non è mia ma insomma riuscire a farne una nello stato attuale che riprenda esattamente lo stesso punto di vista e che permette un confronto puntuale questo è molto simile piazza San Carlo sempre a Milano ci sono casi ad esempio questo l'ho presa proprio per esemplificare dal web una chiesa di Cagliari che è stata distrutta pesantemente come si vede nei bombardamenti che non è stata ricostruita quindi ci sono sono state fatte delle scelte e nella fotografia che mi sono procurata attraverso Street View sulla destra vedete che l'edificio della chiesa è sostituito da un edificio abbastanza come dire dozzinale peraltro resta tuttavia sul posto una lapide che ricorda quanto accaduto questo è un altro esempio va beh celeberrimo San Lorenzo fuori le mura ecco la scelta può essere di lavorare su un monumento storico uno o più monumenti storici di particolare importanza ma anche perché no sul tessuto di un intero quartiere ecco anche qua a destra vedete un'altra lapide ad esempio che riguarda il quartiere di San Lorenzo a Roma quindi di tracce ce ne sono sicuramente tante bisogna guidare i ragazzi a riconoscerle ecco quindi che tipo torniamo sul discorso del feedback insomma alla fine di questa prima fase i ragazzi dovrebbero avere messo in ordine i materiali raccolti rintracciare aver rintracciato i luoghi aver compiuto questa osservazione sul terreno sul campo ma un'osservazione selettiva andando a cercare alcuni aspetti e non altri e avere prodotto un loro vero e proprio materiale iconografico questi sono tutti aspetti sui quali poi l'insegnante può interloquire interagire con i ragazzi la seconda fase è una fase in cui si allarga il discorso alle fonti si può partire proprio dalla questione generale con l'insegnante di storia anche semplicemente dal manuale di storia dei bombardamenti in Italia per capire perché quando furono intrapresi per quali motivi perché in determinati anni e così via quindi c'è un contesto generale da comprendere ci sono poi i casi particolari perché come dicevamo prima ci sono sicuramente contesti più o meno bombardati capire come mai perché perché ci sono alle volte anche località molto piccole penso al caso di Recco che è stata quasi rasa al suolo anche lì dai bombardamenti capire come mai quindi far accedere a determinate fonti i ragazzi l'altro aspetto molto interessante è appunto scendere dalla dimensione della storia raccontata dai testi o dai manuali alla storia raccontata potremmo dire dal basso sia da fonti come dire alte potremmo dire ad esempio ci veniva in mente una poesia di Quasimodo su Milano nel 43 che insomma l'immagine che un poeta dà di quello che era accaduto a Milano dopo questi bombardamenti che anche fonti molto più come dire magari banali come possono essere degli articoli d'epoca oppure su eventi di questo genere può essere anche molto interessante andare a rintracciare sicuramente lo è ancora in parte qualche testimone ancora in vita che è disponibile a raccontare esistono nonni che ancora ricordano che cosa è stata la guerra che cosa sono stati i bombardamenti potrebbero non necessariamente magari avere il ricordo legato a quello specifico quartiere o a quello specifico luogo però può essere molto interessante sentire da loro dalla loro viva voce per i ragazzi che cosa è stata l'esperienza della guerra quando erano bambini fondamentalmente in questa seconda fase si tratta di raccogliere una serie di materiali raccogliere selezionare e nel caso dei testimoni ancora in vita quello che si può chiedere ai ragazzi è ad esempio di progettare delle interviste sulla base ovviamente delle disponibilità che si trovano la terza fase è la fase in cui sostanzialmente si guidano i ragazzi a mettere in rapporto tutto ciò che è stato osservato sul campo il materiale iconografico e sostanzialmente tutto ciò che invece è stato tratto è stato letto diciamo nelle fonti scritte metterli in relazione per aiutare i ragazzi è utile anche utilizzare delle domande guida ecco dei questionari non eccessivamente articolati che però portino anche i ragazzi un minimo a problematizzare i fatti ad esempio un'osservazione che sicuramente si potrebbe come dire portare avanti è sia nelle scelte compiute dall'alto che nel vissuto dal basso della popolazione coinvolta come possono essere in qualche modo paragonati o considerati ecco la scelta di compromettere delle vite e di compromettere delle opere d'arte le due cose spesso sono state fatte in parallelo ma come se fossero fatti in un certo senso altrettanto gravi ecco quindi provare a porre anche delle questioni in qualche modo quasi morali etiche ma come dire che chiamano anche fortemente in gioco proprio degli aspetti anche emotivi indubbiamente l'altra questione la seconda questione è proprio quella dei restauri quindi andare a valutare insieme ai ragazzi anche qua chiede attraverso delle domande specifiche caso per caso affidando appunto i singoli case e i singoli gruppi cosa si è deciso di fare dopo dove si è battuto dove si è ricostruito come si è ricostruito dove si è ricostruito come si suol dire dove era e com'era diciamo dove sono state adottate soluzioni differenti e per apportare degli spunti di riflessione come dire una volta che i ragazzi diciamo hanno creato ecco un rapporto ripeto tra quanto osservato e le fonti ecco per apportare degli spunti di riflessione si possono dare dei riferimenti ad esempio scusatemi ce l'ho qui più avanti ecco per quanto riguarda la questione della ricostruzione si possono creare degli spunti e dare dei riferimenti attraverso qualche stralcio delle carte del restauro due in particolare sono come dire si occupano questa diciamo la carta di Venezia ecco è proprio il frutto di quello che era successo durante la seconda guerra mondiale quindi è un po' il risultato dei problemi che si erano posti dopo la guerra se fosse il caso di ricostruire se era corretto occuparsi solo di quello che all'epoca si considerava il grande monumento storico o se in caso in cui la distruzione era veramente molto estesa non fosse necessario occuparsi dell'intero tessuto urbano magari non di un'intera città però di alcuni quartieri quindi nella carta di Venezia si parlava del monumento da una parte e dell'ambiente circostante e poi c'è una seconda carta più recente sto aspettando dovrei mandare avanti la slide ma mi si è bloccato in qualche modo adesso abbiate pazienza un attimo ma non riesco vedo che c'è un ritardo rispetto eccolo qua eccoci l'altro caso è quello della carta di Cracovia che è una carta molto più recente che in qualche modo sempre riguarda la questione della conservazione del restauro del patrimonio è un aggiornamento rispetto alla carta di Venezia nel senso che come vedete da questi brevi stralci insomma che io ho evidenziato ci si è andati insomma interrogare su cosa si debba intendere come ambiente del monumento nel senso in un modo forse un po' più evoluto e che tiene presente anche come è cambiata la concezione proprio di patrimonio considerare che l'ambiente è fatto anche dalle persone sostanzialmente che la condivisione è saltata va bene eravamo arrivati adesso posso eventualmente riavviarla ma eravamo arrivati quasi alla fine della nostra sequenza ecco stavo dicendo l'ambiente non va inteso semplicemente come una sorta di fondale di scenario rispetto al monumento ma è fatto anche di persone della popolazione delle attività che si svolgono in quell'ambiente di un'attività che evolve nel corso del tempo provo a vedere scusate se riesco a riattivare la la condivisione perché c'è stata qualche difficoltà se riusciamo rapidamente se avete un attimo di pazienza intanto se volete potete scrivere le vostre domande in chat ecco volevo giusto arrivare a questa slide proprio l'ultima come si può concludere un lavoro di questo genere insomma che è un lavoro certamente molto articolato si potrebbe concludere con due abbiamo pensato insomma due tipologie di elaborati da parte dei ragazzi l'uno potrebbe essere quella di una presentazione in forma nel caso più semplice in forma di presentazione powerpoint oppure di video oppure se ci sono se c'è qualche risorsa che la scuola mette a disposizione una piccola mostra insomma in cui i ragazzi facciano una selezione rispetto a tutto ciò che hanno raccolto e capito quindi accostando le immagini anche a quelle che sono proprio i loro commenti la loro valutazione il loro giudizio su tutto ciò che hanno scoperto l'altra può essere una modalità anche molto adatta per coinvolgere ad esempio compagni della scuola i genitori perché no le famiglie ad esempio degli studenti quella di progettare un itinerario qualora soprattutto si sia messo a fuoco insomma un'area specifica relativamente circoscritta di una città potrebbe essere molto interessante quella di chiedere ai ragazzi di preparare un itinerario guidato da svolgere a piedi in bicicletta nelle forme più varie tenendo presente che ad esempio in una situazione di questo genere io penso al caso di un liceo artistico ma eventualmente anche di un liceo scientifico si potrebbe anche insomma potrebbe rientrare in qualche modo nel lavoro dei ragazzi anche l'aspetto di proprio progettazione ad esempio di un breve depliano materiale proprio anche cartaceo piuttosto che fruibile ad esempio attraverso il web in cui i ragazzi presentano quanto hanno trovato quindi ci potrebbe essere proprio anche un lavoro in cui si va a valutare la capacità ecco alla fine di concretizzare in un prodotto presentabile fruibile facilmente leggibile piacevole anche per alcuni aspetti gli esiti di tutto quanto il loro lavoro ecco questo è un po' in sintesi il nostro la nostra la nostra proposta bene grazie Nicoletta di questo bel intervento e a questo punto rimangono 12 minuti in cui potete farci le vostre domande e qualcuna è già arrivata e la leggo sia a Nicoletta che a Laura sul tema della valutazione come può essere gestita la valutazione in un progetto di quello simile a quello che avete parlato Laura rispondi tu rispondere esatto allora indubbiamente dentro al curriculum scolastico è chiaro che il tema della valutazione è argomento centrale allora direi che ci sono due aspetti che devono comunque convergere pur articolati in maniera differente ci sono competenze disciplinari molto precise sono quelle delle indicazioni nazionali e quindi nello studio del bene culturale devono essere appunto chiaramente applicate e abbiamo abbiamo elencato una serie di obiettivi come azioni manifeste nel nostro lavoro quindi lì c'è la valutazione ma questo è l'aspetto importantissimo poiché noi pensiamo a un lavoro collaborativo bene la gestione la gestione delle relazioni proprio non solo anche la capacità di stendere insieme ai compagni con la supervisione del docente il planning di lavoro con una serie di fasi delineate ma anche proprio la capacità di lavorare con gli altri ci può essere una divisione di ruoli a seconda delle attitudini c'è chi è più portato a gestire come diciamo anche con un ruolo di portavoce il gruppo e chi invece quindi con questo tipo di capacità comunicativa c'è chi ha capacità organizzative c'è chi può portare dentro apprendimenti informali immagino al digitale quanti dei nostri ragazzi appunto praticano anche applicazioni che possono essere utili a questo tipo di lavoro ecco tutto questo deve essere valutato ci devono essere proprio degli step che sono valutazione formativa e poi una valutazione finale che consideri l'insieme di questi aspetti quindi gestione informazioni concetti planning di lavoro gestione relazioni tra i ragazzi e dei ragazzi nei confronti del docente che in questo caso fa tutoring poiché non è un apprendimento per trasmissione di contenuti e poi la gestione degli strumenti appunto parlavamo prima proprio della della rete della delle grandi risorse che i nostri ragazzi hanno in questo ambito quindi una scheda articolata con ovviamente una un range che considera la non partecipazione ma raramente succede ve lo posso dire in tanti anni di lavoro all'eccellenza per molteplicità di apporti ecco questo benissimo Laura grazie leggiamo un'altra domanda il lavoro che proponete può richiedere un notevole impegno di ore come renderlo compatibile con la programmazione disciplinare e come gestire l'aspetto interdisciplinare rispondo io Laura ma dunque indubbiamente sono lavori che allora direi che l'ideale è innanzitutto appunto condividere un progetto di questo genere con dei colleghi in un lavoro di questo tipo sicuramente è molto utile anzi direi fondamentale l'apporto dell'insegnante di storia eventualmente anche di italiano perché ad esempio c'è tutta anche una letteratura insomma del novecento italiana dove questa tematica assolutamente emerge e nel caso del liceo artistico anche colleghi ad esempio che insegnano discipline grafiche pittoriche potrebbero essere preziosi in un lavoro di questo tipo la situazione ideale è quella di una programmazione condivisa da subito dall'inizio fin dall'inizio dell'anno e direi in questi casi è molto utile la stesura di una sorta di crono programma in cui si definiscono chiaramente i compiti di ciascuno ci si danno delle scadenze una scaletta ecco nella mia esperienza può funzionare ecco in questo modo quantificare così su due piedi è un po' difficile diciamo che sicuramente un progetto di questo tipo se ne sviluppa uno in un anno se si vuole arrivare a un prodotto anche così articolato ed è chiaro comunque che se il lavoro è effettivamente interdisciplinare da una parte il carico in tutti i sensi in senso progettuale anche delle ore che ciascun insegnante può dedicare viene distribuito su più docenti dopodiché in alcuni casi sarebbe anche molto molto bello e molto utile poter lavorare in compresenza con i ragazzi sicuramente se ci sono delle uscite comuni sul territorio ma qualche volta anche in classe la lunghezza diciamo l'impegno orario dipende anche da quello che si è in parte disposti a spendere nel senso che io credo che nell'educazione civica così come c'è stata anche proposta dal ministero quest'anno valga la pena di sviluppare magari anche un solo progetto però mettendo a disposizione un numero di ore significativo proprio perché il progetto sia un'esperienza veramente formativa quindi non lo so in un gruppo di colleghi potrebbero essere una quindicina di ore complessivamente distribuite anche magari nell'arco dell'anno non necessariamente da compattare tutto in uno stesso momento e in ogni caso l'impegno orario dipende dall'ampiezza ad esempio da quanti esempi si intende analizzare da quanto anche ciò che si intende analizzare sia disponibile vicino in prossimità dell'istituto o richieda magari un lavoro un po' più complesso spero di avere risposto Jacopo deve riattivare il microfono grazie questa dad questa didattica a distanza ritorna sempre con queste problematiche allora avete parlato di feedback ci può essere un feedback digitale su attività del genere usate dei programmi particolari a scuola allora l'applicazione diciamo delle tecnologie digitali all'apprendimento esigerebbe di per sé un altro incontro con diciamo gli esperti diciamo che più che pensare a dei veri propri software anche se questo cioè sarà insomma è nodale noi abbiamo pensato a delle presentazioni con Canva o insomma ecco anche presentazioni molto molto semplici perché il cuore diciamo della progettazione come abbiamo cercato insomma di comunicare è proprio il processo e quindi diciamo l'aspetto digitale è in questo caso uno degli aspetti non dico che debba essere esclusivamente strumentale ci manca perché comunque l'ambiente di apprendimento digitale ha di per sé delle modalità che sono chiaramente di costruzione del percorso però in questa diciamo in questo contesto abbiamo appunto preferito delineare una progettazione per linee guida ci sono situazioni veramente molto differenti nelle nostre scuole ci sono scuole dove ci sono risorse umane dedicate all'apprendimento digitale importanti ci sono scuole dove proprio questo non c'è e dove anche il singolo docente è a volte in difficoltà quindi questo è un elemento della flessibilità progettuale che lasciamo appunto a voi e al vostro specifico contesto di lavoro bene allora sono le 16.28 quindi abbiamo fatto la nostra ora di chiacchierata insieme vi ricordo che questo webinar in video su youtube è disponibile fin da adesso e quindi chi fosse arrivato in ritardo lo può rivedere tranquillamente le slide presentate da Nicoletta e Laura sono disponibili su Rizzola Education nella sezione archivio e quindi qualunque cosa abbiate da rivedere o scaricarvi potete farlo con in piena serenità a questo punto vi ringrazio e vi auguro una buona serata ringrazio Laura e Nicoletta per tutto grazie a tutti i partecipanti grazie per averci seguito e buona serata buona serata buona serata